Joseph Ratzinger, che dopo l'elezione a Pontefice scelse il nome di Benedetto XVI, è morto a Roma oggi, 31 dicembre. Aveva 95 anni, lo annuncia il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Con dolore informo che il Papa Emerito Benedetto XVI è deceduto oggi alle ore 9.34 nel monastero Materclesia in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni. Il corpo di Ratzinger informa la Santa Sede dalla mattina di lunedì 2 gennaio sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli. Il suo pontificato è iniziato il 19 aprile 2005 ed è stato il primo pontefice ad aprire un account Twitter nel 2012, Pontifex. È stato inoltre il primo ad abdicare, iconico l'incontro con Bergoglio, evento molto raro nella storia del papato. Per la prima volta nel corso di secoli due papi si incontravano. Tre giorni fa l'appello di Papa Francesco, pregate per lui e molto malato, era già un preludio dell'inevitabile. Papa Benedetto XVI si è spento all'età di 95 anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.